Parlando del giallo all'italiana, mi ero ripromesso di parlare anche di Dario Argento, soprattutto della trilogia zoologica e i suoi tre film più interessanti che sono all'origine della sua cinematografia. I tre film sono L'uccello del primo di cristallo, Il gatto a nove code, Quattro mosche di velluto grigio e probabilmente parlerò anche di Profondo rosso perché segna un passaggio molto importante nello sviluppo dell'arte cinematografica di Dario Argento. Ma prima di illustrarlo, devo chiedere ai miei cinque visualizzatori chi era Ronald Knox. Parlo di cinque visualizzatori perché se Alessandro Manzoni nel preambolo dei promessi esposi si rivolgeva ai suoi 25 lettori, io, chiaramente per una dovuta proporzione, non posso ambire a più di cinque visualizzatori. In questo caso qualcuno dei miei cinque visualizzatori saprà chi era Ronald Knox, se no ve lo dico io. Era un ecclesiastico presbiteriano nell'Inghilterra del tardo ottocento che era amico di Chesterton. Ora, Chesterton è uno scrittore molto importante perché è l'autore di padre Brown, il famoso sacerdote detective che è un antisignano di Don Matteo sotto certi aspetti. Quindi Knox, nonostante fosse un ecclesiastico presbiteriano, era un appassionato scrittore di gialli e anche un teorico del giallo. Quindi scrisse il famoso decalogo di Knox che erano le famose dieci regole che nessun scrittore o ideatore di storie gialle dovrebbe tralasciare. Queste dieci regole sono poi diventate venti nelle famose venti regole dello scrittore di giallo americano degli anni 30 che si chiamava SS Van Dyck. Anche questo è un personaggio molto interessante e molto curioso. In queste regole ci sono alcune che sono veramente auree, cioè l'assassino deve essere uno solo, non ci devono essere elementi paranormali, non ci devono essere interventi divini. Tutte le prove che lascia l'assassino devono essere conosciute dai lettori, dagli ascoltatori o dagli spettatori. Non si può barare con delle false prove, non ci deve essere assolutamente una perfetta, chiara identificazione dell'assassino senza lunghissime spiegazioni e senza complicazioni eccessivamente scientifiche. Tra l'altro una di queste regole dice che l'assassino non deve essere un cinese. Al di là di questa regola, l'assassino non deve essere un cinese, che Dario Argento ha perfettamente rispettato, tutte quelle altre Dario Argento le ha completamente ignorate. Le ha completamente ignorate perché ha portato una rivoluzione in quello che fino allora si chiamava il giallo deduttivo, cioè chi è stato, chi l'ha fatto. Fino allora questo giallo deduttivo si basava su una ferrea logica, mentre Dario Argento ha completamente scardinato questa logica e al posto della logica ci ha messo la sensazione, il sensazionalismo, la suggestione visiva e sonora che ha evitato completamente ogni svolgimento logico e ha dato invece un coinvolgimento emotivo drammatico e forte tramite la musica, tramite la fotografia e tramite la scenografia. Questo è stato il suo talento, un talento visionario che ha praticamente scardinato le regole del giallo tradizionale per portarlo su un piano completamente diverso, su un piano quasi di pelle, quasi completamente emozionale. Questo lo ha fatto anche per merito di Mario Bava, tant'è vero che lui si ricorderà precisamente di portarsi dietro quelle che invece sono le regole di Mario Bava. Per esempio, l'assassino di Dario Argento è sempre il feticcio classico di Mario Bava, guanti neri, impermeabile nere, cappello nero. L'assassino è uno che il nostro protagonista ha frequentato. Un altro elemento importante è che l'assassino è sempre una donna, escluso un caso, però generalmente negli altri casi è sempre una donna. Quindi ci sono degli elementi di Bava che ritornano costantemente nel film di Argento, come ci sono degli elementi di Hitchcock che però sono soprattutto delle citazioni più che delle vere e proprie assimilazioni, come invece è stato per Bava. Il primo film che ha un'altra cosa molto importante è la scelta dei collaboratori e questa scelta dei collaboratori la vedremo bene nel dettaglio parlando proprio del suo primo film del 1970 L'Uccello delle piume di cristallo. Bernardo Berlucci doveva preparare la realizzazione di questo film che era tratto da un racconto di Frederick Brown che si chiama La statua che urla. Frederick Brown è uno straordinario scrittore di fantascienza, tra l'altro l'autore di uno dei più bei e più brevi racconti di fantascienza in assoluto che si chiama La sentinella dove bravo di leggerla perché è bellissimo. Quindi su questo soggetto di Brown Bertolucci doveva scegliere un giovane sceneggiatore per preparare questo film e scelse Dario Argento perché insieme avevano scritto il soggetto di C'era una volta il West con Sergio Leone. Dario si appassionò talmente a questa storia si appassionò talmente al soggetto e alla sceneggiatura del film da rielaborarlo completamente e da sentirlo suo e quando è deciso di non cederlo, ma quando andò in giro a offrire questa sceneggiatura con la sua regia nessuno l'accettò. Addirittura Lombardo diceva, un'interessante più o meno sceneggiatura la farcelo vedere da un altro che era Ferdinaldo Baldi e che al male la gira lui, Dario Argento impazzì. Per cui a questo punto si rivolse al padre e insieme decido di fare una società che si chiamava Seda Spettacoli e con questa società produrre il film. Il padre, Salvatore Argento, che ho avuto il piacere di conoscere, ho collaborato con la Seda Spettacoli nella quale poi confluì anche Claudio Argento che è stato il mio produttore di Santa Sangre. L'esperienza di Salvatore Argento che aveva lavorato all'Unicinema che era l'ente di promozione del cinema italiano fu molto preziosa. Prima perché incoraggiò il figlio e l'aiutò finanziariamente. Secondo perché lui conosceva molto bene l'ambiente e anche Dario lo conosceva perché aveva fatto il critico cinematografico a Paese Sera e all'araldo dello spettacolo. Tuttavia Salvatore aveva anche l'autorità per chiedere la partecipazione di qualcuno e quindi ebbe l'intuizione che Dario accettò di fornire al figlio i migliori elementi in quel momento tra i giovani tecnici che esordivano nello spettacolo. Quindi gli presentò un certo Egno Moricone per le musiche e poi Dario Scelsè, Franco Fraticelli, che era il montatore di Pietrangeli, io la conoscevo bene e se voi ricordate il film, io la conoscevo bene e se non lo ricordate vi prego di vederlo. Il montaggio di Franco Fraticelli è un montaggio modernissimo, straordinario, spezzato, che lo ritroverete uguale in L'Uccelo del Piume di Cristallo. Quindi l'apporto di Franco Fraticelli è un apporto estremamente importante per lo stile di Dario Argento. Il famoso suicidio nel film L'Uccelo del Piume di Cristallo in cui uno si getta dalla finestra, la ripresa come è stata fatta è esattamente identica alla ripresa del suicidio di Stefania Sandrelli, io la conoscevo bene, come se Franco Fraticelli avesse suggerito questa sequenza. Un altro collaboratore che è Dario Scigli è un certo Vittorio Storaro. Vittorio Storaro successivamente ha avuto tre Oscar, che è stato direttore della fotografia di Bertolucci, dell'ultimo imperatore, di Francis Ford de Coppola in Apocalypse Now, quindi tre Oscar. Quindi è chiaramente già fin da allora un direttore della fotografia molto particolare e fornirà a Dario Argento quella chiave cromatica che lui desidera, una chiave cromatica completamente diversa da quelle solite dei film dei gialli deduttivi, che hanno queste atmosfere gotiche. No, invece la fotografia di Storaro sarà piena di colori, colori acidi, forti, gialli, rossi, aggiori. C'è una sequenza molto importante in cui c'è un inseguimento notturno in cui prima è uno dei killer, poi diventa uno di quelli che scappa, che ha un giubbotto giallo brillante che squila nella notte e ritengo che sia un'idea di Vittorio Storaro proprio per dare questo contrasto continuo. Un'altra scelta molto positiva è quella di Dario Micheri, lo scenografo, anche perché Dario, per evitare questo fatto che ogni volta che in Italia si faceva un giallo questo giallo veniva o americanizzato oppure gli americani lo chiamavano i gialli cartolina perché ogni volta c'era un'inquadra sul Colosseo, sul Duomo, sul canale di Venezia e conferiva un'area sotto certi aspetti provinciale alla vicenda. In questo caso Dario Argento ha l'idea di delocalizzare completamente la storia, cioè lui girerà a Roma, a Torino, in vari posti apposta perché ogni volta la città non venga completamente identificata ma venga elaborata e resa suggestiva una porzione, una parte, ma è come se fosse un'immensa grande città in cui si incrociano le varie location. Questo è anche a merito di Dario Micheli, uno scenografo e un regista di opere e che aveva lavorato anche alla Decima Vittima, uno dei pochi film di fantascienza di Erio Petri e che ha questa atmosfera spiazzante e suggestiva. Quindi tutto questo gruppo, la musica di Ennio Morricone anche in questo caso diventa un trenamento importante perché come Fraticelli spezza il ritmo, Ennio Morricone spezza la melodia. Cioè addirittura Ennio mi raccontò che c'erano delle sequenze, quelle sequenze che erano di commento, non quelle con il live motive, in cui lui che era diplomato anche nella tromba si improvvisava insieme a un sestetto in sala di registrazione e quindi che cosa faceva? Ennio, spezzando completamente la tradizione melodica normale, ricreava le voci infantili come per dire la psiche turbata dell'assassino, toglieva le parole e metteva i vocalizzi, toglieva gli strumenti e metteva dei suoni vocali, quindi ribaltava completamente lo schema usuale, per cui una fotografia diversa, una musica diversa, un'ambientazione diversa, tutto questo conferiscono alla storia, alla vicenda una forza che in realtà la sceneggiatura di per se stessa non avrebbe e questo è stato sempre uno dei limiti di Dario. I critici erano sempre riconosciute contorte, macchinose, forti, però su di questo sceneggiatore lui con grande abilità, con grande coraggio e con grande sfacciataggine supera questo problema della sceneggiatura per immettere nel film il suo talento visionario, quindi compensa la mancanza di logica con una scelta, come ho già detto prima, di emozione e di forza. Il cast del Luciano Piedone di Cristallo era fatto da Tony Musante, che si trovava a disagio con la forma di cinema certe volte improvvisata di Dario Argento, ci sono stati anche dei bisticci dell'eliti, con Susie Kendall e con uno splendido Enrico Maria Salerno, che è l'unico fra tutti i commissari dei film di Dario Argento credibile perché tutti gli altri sono survoltati, strani, sovratono, sono quasi figure buffe, come se uno volesse diridere la legge. Invece Enrico Maria Salerno è quasi una figura sofferta, attenta. La barura di Enrico Maria Salerno è fuori discussione. Un'altra cosa che vorrei farvi notare è come, secondo le regole di Mario Bava, il protagonista era sempre per caso gettato all'interno della vicenda, come accade alla ragazza che sapeva troppo a cinque donne per l'assassino. Il secondo film è del 1971 che si intitola Il gatto a nove code. Che cosa era accaduto? Siccome Luciano dei primi di cristallo non aveva incassato molto e soprattutto non era piaciuto a Goffredo Lombardo, che era il distributore, questo film Dario non riusciva a chiuderlo. L'unico fatto però è che negli Stati Uniti, nel frattempo, l'uccello della prima di cristallo aveva cominciato a guadagnare e aveva guadagnato anche bene per un film europeo. Anche in Italia il film, mano a mano, aveva poi in realtà macinato, come si dice in gergo, un numero abbastanza rilevante di incassi. Tuttavia Lombardo non voleva fare il secondo ma di fronte al fatto che gli americani davano una buona somma per la distribuzione, accettò di farlo. Gli americani imposero anche un cast americano, tanto è vero che il protagonista del film è James Franciscus, che era in quel momento un attore noto perché aveva avuto un certo successo con un film intitolato l'altra faccia per il pianeta delle scimmie, il grande Karl Malden, ricordiamoci Oscar per un tram chiamato Desiderio e un'altra nomination all'Oscar per Fronte del Porto, quindi un grande attore americano straordinario e importante che fa la parte del cieco, e la deliziosa Karen Spuck, in quel momento in auge completamente, bella come sempre, brava e in questo caso anche elegantissima perché vestita con degli abiti di grande suggestione e soprattutto per l'epoca molto fuori norma, particolari. Il soggetto è Luigi Collo e Dardano Sacchetti. Dardano Sacchetti è un autore interessante e importante perché è un autore di Lenzi, uno di quelli che ha inventato il Monnezza per capirci. Ha lavorato con Martina, ha scritto Daldilà, i film più interessanti di Fulce, e da questo momento inizierà a collaborare con Argento. Al di là del soggetto, la sceneggiatura è sempre di Dario Argento e come sempre la sceneggiatura, a mio giudizio, presenta sempre contorta, però ha una suggestione. è giocata su questo fatto che il protagonista è un cieco e insieme a questo cieco anche l'altro protagonista è un giornalista che deve scoprire la verità. Quindi il giornalista che vuole sapere la verità è il cieco che non può vedere e l'assassino è invece qualcuno che vede ma che non vuole vedere la realtà perché la realtà che vede è contro di lui. e quindi c'è questo gioco tra chi è cieco e vuole vedere e sapere e cerca di sapere con gli altri sensi che sono l'udito e l'intelligenza e l'assassino che invece vede ma cerca di non far vedere agli altri, di non vedere lui stesso la verità che lo descrive come assassino e ne vuole che gli altri la vedano. Ecco, su questo gioco c'è di nuovo nelle riprese l'influenza profonda di Bava perché c'è sempre il feticcio dell'assassino con l'impermeabile, i guanti, il cappello e però c'è anche l'influenza a mio giudizio di un film americano introdotto la scala a chiocciola perché nella scala a chiocciola c'è sempre questa pupilla e quindi qui c'è il contrasto tra la gigantesca pupilla dell'assassino pronta a vedere tutto, a spiare e quindi pronta con questa sua grandezza che riempie lo schermo a essere il pericolo incombente a uccidere e la cecità, gli occhiali neri, il buio, lo smarrimento del cieco, del protagonista che in realtà ha come unico bando l'innocenza, cioè la nipotina che lo guida, o l'intelligenza, cioè di nuovo una piccola luce nell'anima che lo guida e che gli fa intuire le cose. Quindi questo film si avvale ancora della collaborazione di Ennio Morricone sempre con le sue straordinarie musiche si avvale della fotografia di Enrico Mekzer, un grande direttore della fotografia, tra l'altro mio carissimo amico con il quale ho lavorato, un vero e straordinario signore perché io ero agli esordi ed Enrico è stato affettuosissimo e carino nei miei confronti. Io facevo l'aiuto regista e lui mi ha coperto uno o due volte quegli inevitabili errori che qualcuno commette e quindi lo ricordo con molto piacere e affetto. La scenografia anche in questo caso è molto interessante perché è di Carlo Leva, anche Carlo Leva è stato un mio carissimo amico, ho fatto dei film con lui e vi ricordo che Carlo Leva era un signore che trovandosi a fare l'assistente scenografo in Africa in un film della Titanus, il film si chiamava Sodoma e Gomorra ed era diretto da Robert Aldrich e c'era un giovane aiuto molto in gamba, un certo Sergio Leone. Sono diventati molto amici e da allora Carlo Leva ha lavorato in tutti i film di Leone e Carlo vi fece vedere lo scudo di Clint Eastwood che si mette nel film al cuore Ramon. Carlo Leva è l'autore di nuovo di questo straniamento del film che è molto interessante perché il famoso istituto di genetica del film lui con molta abilità sceglie la sede del ministro dei trasporti all'Euro a Roma, quindi una sede modernissima e nitida e particolare credo che fosse di Piacentini, quindi questo stile monumentale tra il lugubro e il lussuoso e anche la scelta della scena finale della corsa sui tetti, lui sceglie i tetti di Pomezia, questi tetti che vengono resi lucidi nella notte e che fanno sembrare i nostri protagonisti che corrono sui tetti quasi sospesi su delle lastre metalliche contro il cielo, una scena molto suggestiva e molto interessante ed è anche l'autore e la scelta insieme a Dario. Questa è una delle sequenze più belle di Dario, anche per la maestria della fotografia e anche per l'idea di Dario di girarla in questo posto, la famosa sequenza del cimitero in cui una scena misteriosa, lucubre e oppressiva che viene risolta con un gioco di luci e addirittura c'è un momento in cui il cieco viene lasciato solo nel buio mentre il protagonista è prigioniero all'interno del buio della tomba. Quindi i due protagonisti sono uno nel buio dell'ignoto e l'altro nel buio dell'orrore. Quindi una trovata molto suggestiva che fa funzionare il film e come sempre riscatta il fatto che la critica ha definito sempre contorta e confusa la trama, ma in realtà però di grande suggestione perché, come ripeto, è questo il talento di Dario Argento, di superare la materia letteraria per dare una visione cinematografica di grande suggestione. Ho già parlato di Enrico Metzer e l'aneddoto di oggi in un certo senso lo riguarda perché racconta una piccola avventura che ho corso insieme a lui. Enrico doveva andare a fare dei sopralluoghi a Firenze per un film e mi chiede di accompagnarlo. C'era un produttore straniero, c'erano delle attrici, avremmo passato due o tre giorni piacevoli e simpatici che mi avrebbe fatto conoscere delle persone che potevano servirmi per il lavoro. E quindi andavamo. Io tra l'altro avevo appena acquistato da un amico inglese una Sambin Alpine Spider che sarebbe stata chiaramente usata che era l'auto che 007 aveva nel suo primo film, non l'Aston Martin di quelli successivi, ma quella Spider del suo primo film. E quindi era impaziente di provarla sull'autostrada anche perché quest'auto aveva l'overdrive, cioè la quinta marcia, che allora era quasi una novità e quindi pensavamo di lanciarsi sull'autostrada divorando i chilometri. Mentre correvamo nel vento e nel sole spenselati e tranquilli, a un certo punto abbiamo superato una utilitaria decappottabile con due ragazze dentro. Queste due ragazze, quando siamo passati, ci hanno suonato il clacson, ci hanno salutato e ci hanno dato dei baci. Ora, chiaramente, eravamo proprio nel momento che a Roma si dice che stavamo facendo i piaccioni e queste due ragazze erano proprio la ciliegina sulla torta. Tra l'altro, Eriko era una persona molto simpatica, gradevole, divertente e allegra e in più era molto sensibile al fascino femminile. Io ero suo amico, quindi non potevo dirgli no. Per cui quando ci siamo fatti di nuovo superare le ragazze, di nuovo saluti cose e quando abbiamo detto fermatevi, le ragazze ci hanno fatto cenno di un autogrill che si sarebbe fermato nell'autogrill successivo. Ci hanno detto dopo. Noi siamo andati dietro a loro, pregustando questa avventura. Infatti siamo arrivati all'autogrill, le ragazze sono scese di corso e si sono infilate dentro la costruzione dell'autogrill. Noi abbiamo lasciato la macchina via a correre dietro a loro. L'abbiamo cercato inutilmente per circa un quarto d'ora, venti minuti, non siamo riusciti a trovarle. All'inizio pensavamo a un gioco civettuolo, invece proprio non l'abbiamo trovato. E quindi, delusi e anche affaticati, siamo ritornati alla macchina e abbiamo scoperto la triste sorpresa che la macchina nel frattempo, data la nostra assenza, dato che noi erano andati subito di corsa, era stato aperto il portabagagli e ci avevano delubato delle valigie. Non era granché. C'erano qualche lira, qualche vestito, ma dovevamo fermarci un giorno o due. Però era una seccatura e soprattutto ci siamo guardati intorno, non abbiamo trovato nessuno e quindi, delusi, siamo tornati a Firenze. Chiaramente la atmosfera è cambiata perché era un po' seccante. Tra l'altro sono andati a Firenze, ha cominciato a piovere, quindi siamo stati un giorno rinchiusi in albergo. mi si è rotta il famoso overdrive dell'auto e quindi praticamente siamo dovuti ritornare a Roma. Siamo tornati a Roma, però devo dire che il produttore è stato molto gentile e ci ha pregato di riportare la sua Jaguar a Roma e quindi lui aveva fatto rientrare la macchina mia con un'auto gru tipica del film che serviva a portare le macchine storiche che erano nel film. Quindi, benissimo, siamo di nuovo su questa splendida Jaguar lussuosissima e per un istante abbiamo ricominciato a fare i piaccioni sull'autostrada. Oh, la macchina era un Jaguar con una veniciatura metallica color oro, quindi era molto... Sull'autostrada però, a un certo punto, abbiamo superato di nuovo la piccola utilitaria decapottabile e c'erano di nuovo queste ragazze che ci hanno salutato. Lì per noi abbiamo pensato che ci riconoscesse, invece siamo resi conto che non ci avevamo riconosciuto e ci hanno fatto lo stesso segno, i baci e le cose, si stavano di fermarci all'autogrill. A questo punto c'è avuto il sospetto. Ma guarda se queste due fossero state le due date. Allora abbiamo seguito loro all'autogrill, siamo scesi e quando loro sono spariti, come al solito, nell'autogrill noi abbiamo fatto finta di inseguire, e noi invece siamo nascosti e le abbiamo sorprese che stavano scassinando il tentativo del nostro posto a pagare. Le sorprese sono rimaste malissime, quindi abbiamo detto che adesso vi denunciamo così. Le ragazze hanno preso e dicevano che finitiamo i soldi. Ci hanno ridato dei soldi, chiaramente non ci hanno ridato le varigine, ci sono messe a piangere, erano carine, disperate, erano due latere simpatiche. Ci mettevamo a trovare le ferfate ferme, chiamiamo la polizia. Ci hanno dato i soldi e li abbiamo lasciati andare. La prima cosa che abbiamo fatto è che quando siamo usciti dall'autostrada abbiamo avvertito il casello di avvertire alla stradale che c'erano queste due che cercavano di fare secchi i polli, cioè noi. Quindi abbiamo imparato che è molto facile fare i piaccioni ed è molto facile mentre fa il piaccione di finire come un pollo. Grazie. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivermi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie. Grazie.